Ok, prossimo consiglio su come guadagnare online, la cosa migliore che ti ho detto nell'altro video è investire a lungo termine e non ti far distrarre, ok? È un concetto di cui ne parlo molto nel segno dei miei corsi di business. Ora, però, se non sai da dove iniziare, la cosa migliore probabilmente è trovare un mentore, trovare qualcuno che sa guadagnare online, qualcuno che ha creato il business come tu lo vuoi, quello che vorresti avere, e seguirlo per un periodo di tempo abbastanza lungo per poter imparare da lui. Un po' come faresti se, non lo so, dovessi imparare a suonare il violino, o imparare a suonare il pianoforte, o imparare, non lo so, andare in palestra, che non puoi aspettarti di piantare un seme e avere una mela domani. Ci vuole tempo, questa è la cosa che la maggior parte delle persone non capiscono e si aspettano di guadagnare immediatamente e velocemente. Ora, non è che non sia possibile guadagnare immediatamente e velocemente, il fatto è che puoi, quando hai già una struttura di business che ti permette di farlo, ok? Quindi se tu hai già una lista di clienti, se hai già un business, io oggi posso davvero guadagnare ogni tre minuti, ok? Perché ho un business che me lo permette, ma se tu non hai un vero business, una vera attività, non hai mai fatto business, non ti aspettare di guadagnare tanto in tre minuti. Ci vorrà del tempo, come ogni altra cosa. Le chiede tempo, ma ne vale la pena? Beh, questa è la seconda cosa di cui volevo parlare oggi, assolutamente ne vale la pena. Insomma, ti dico, puoi viaggiare, puoi fare quello che ami fare, puoi vedere il mondo, penso che l'online sia una così grande opportunità. Togli le barriere, togli i limiti, non sei tu che lavori nel tuo quartiere o nella tua città o neanche solo nel tuo paese. Puoi lavorare ovunque, che puoi lavorare ovunque, puoi lavorare come vuoi, puoi lavorare quanto vuoi. Mi sposto un po', così ti faccio dare ancora un po' di grattacielo. Puoi lavorare come vuoi, puoi lavorare come vuoi, quando vuoi. E davvero iniziare a viaggiare, fare quello che ami fare, vedere il mondo, evolvere la tua mente, è qualcosa di... sarebbe troppo limitato non viaggiare, non prendersi, non sfruttare questa opportunità. Ora, starà facile? Beh, dipende dal concetto che tu hai di facile o di difficile. La domanda è, è facile andare all'università, è facile suonare il violino, è facile imparare a camminare? Non lo so, quello che so è che è possibile, ok? Se ti metti abbastanza ore è possibile ed è possibile per te, puoi guadagnare online. Ora, se tu vuoi fare miliardi di dollari sarà più difficile rispetto a fare qualche migliaia di euro e avere un reddito passivo e fare quello che ami fare, sicuramente. Però sicuramente è possibile, te lo dico, io non sono mai andato all'università, molti dei miei clienti oggi sì, e non ho nessuna dote speciale o particolare. Quindi ti voglio dire che è possibile guadagnare online, ma devi avere la mentalità giusta e devi trovare qualcuno che ti può insegnare. Ci vediamo presto nel prossimo video. Fino a quel momento, crea il tuo business e cambia il mondo. Ciao! Ciao, sono ancora io e ho un regalo per te. Però prima voglio chiederti due favore. Il primo è di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e il secondo è quello di lasciarmi un commento e di farmi sapere che cosa vuoi sapere in modo che io possa ispirarti ed aiutarti ogni giorno di più. Quindi iscriviti al canale, lasciami un commento, anche un like che ovviamente mi fa piacere e poi dopo che hai fatto queste due o tre cose allora vai su francescomarcuccio.it slash regalo per avere il mio regalo per te. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao! 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 Grazie a tutti